Una buona giornata, buon sabato e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità perché il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari questa mattina si è recato insieme ad alcuni cittadini davanti all'ospedale di Pescara tante le criticità che secondo il pentastellato si ripercuotono sulla sanità di tutta la provincia il servizio è di Giuseppe Dentino Un appello forte al presidente Marsiglio, all'assessore regionale, alla sanità di fare presto e fare subito perché la sanità, i nostri cittadini meritano di più, questa sanità non la vogliamo Oltre 10.000 prestazioni sanitarie sospese causa Covid e non riprogrammate Carenza di medici, operatori sociosanitari non reintegrati e lunghe file d'attesa sono criticità irrisolte all'ospedale di Pescara Le problematiche, dice il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari dipendono anche da una medicina territoriale che non funziona Partiamo dall'ingolfamento del pronosoccorso pronosoccorso che non riceve quasi più completamente incolfato perché mancano medici mancano medici e noi abbiamo dato la soluzione perché nessun medico vuole andare in pronosoccorso e li capiamo, ma bisogna incentivarli di più economicamente quindi Regione Abruzzo che governa la sanità dovrebbe incentivarli di più prevedere dei premialità curriculari utilizzare l'istituto del precetto per spostare in caso di emergenza e far ruotare i medici di altri reparti in pronosoccorso e soprattutto utilizzare anche i medici che hanno dato ampia disponibilità per le esigenze aziendali assunti per l'emergenza Covid ma ci sono altre concause che fanno scoppiare il pronosoccorso intanto una medicina territoriale che non funziona perché ci sono tanti accessi inappropriati i codici verdi, i codici bianchi non dovrebbero entrare in pronosoccorso dovrebbero essere trattati dalla medicina territoriale se funzionasse però i distretti sanitari non funzionano bene sono stati anch'essi depotenziati e declassati abbiamo addirittura tante apparecchiature obsolete Una sanità lenta anche nel resto della provincia il depotenziamento degli ospedali di penne e popoli costringe molti cittadini delle aree interne a doversi servire del nosocomio pescarese per potersi curare questo sostiene Pettinari ha generato una situazione catastrofica non funzionando più l'ospedale di penne e popoli come dovrebbero tanti cittadini delle comunità dell'area vestina della Val Pescara sono costretti ad andare a pescare e Pescara non riesce più a servire quindi ci sono situazioni catastrofiche Andiamo a Montesilvano adesso allarme nella notte alla stazione per la presenza di una valigia sospetta ricevuta la segnalazione fatta da un cittadino al 112 sul posto sono arrivati i carabinieri della locale compagnia gli artificieri dell'arma di Chieti come da protocollo è stato delimitato un perimetro di sicurezza la circolazione ferroviaria della linea adriatica è stata interrotta per tutta la durata delle operazioni alla fine il bagaglio è stato fatto brillare dagli specialisti dentro c'erano attrezzi da lavoro l'ipotesi principale che sia stata dimenticata da qualcuno all'interno della stazione e ieri sera invece siamo a Chieti nell'ambito di un servizio coordinato a largo raggio eseguito dai militari della compagnia carabinieri di Chieti unitamente all'unità cinofila finalizzata a prevenire le varie attività delittuose a contrastare la criminalità comune sul territorio nelle serate del weekend sono stati deferiti all'autorità giudiziaria teatina vari giovani per uso di sostanze stupefacenti come ascisce e cocaina per un peso complessivo di oltre 30 grammi e per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere come coltelli, manganelli e bastoni il tutto sottoposto a sequestro penale sulla gran parte del territorio lungo le varie arterie stradali sono stati effettuati numerosi posti di controllo al fine di ridurre gli incidenti stradali contestualmente nel medesimo contesto operativo il personale del NOR sezione operativa della compagnia carabinieri di Chieti in applicazione dell'ordinanza della misura di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello dell'Aquila ha tratto in arresto un 34enne marocchino che per depistare le attività di rintraccio già in atto aveva assunto false generalità il soggetto è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria mandante torniamo a Pescara adesso la viabilità del lungomare sud non cambierà e su questo la maggioranza è tutta d'accordo lo garantisce il capogruppo della Lega Vincenzo Dincecco a seguito dell'approvazione del progetto che nei giorni scorsi aveva sollevato numerose polemiche nessuno vuole modificare la viabilità del lungomare sud di Pescara a dirlo il capogruppo in comune della Lega Dincecco che demolisce il progetto inserito nella delibera 380 approvata dalla giunta Masci lo scorso 6 maggio il progetto prevede che il lungomare sud diventi quasi completamente a senso unico di marcia con piazza Le Laudi pedonale questo quanto stabilito dai tecnici dice Dincecco ma in maggioranza siamo tutti d'accordo sul non modificare la viabilità non c'è nessuna idea da parte di questa maggioranza di modificare la viabilità in quel tratto di Riviera Sud che noi intendiamo riqualificare perché abbiamo vinto un progetto che si chiama Regenerazione Urbana e al quale stiamo lavorando e è stata probabilmente una costruzione di un'ipotesi progettuale dei progettisti che stanno lavorando sulla redefinizione del progetto ma non c'è nessuna volontà e quindi sgombriamo il campo da qualsiasi tipo di dubbio o di equivoco non sarà così la riqualificazione di Riviera Primovere non c'è in maggioranza non c'è nessun tipo di attrito su questa dinamica perché nessuno la vuole in quel modo è stata un'ipotesi progettuale inserita all'interno della delibera all'interno della quale abbiamo inserito i lavori di riqualificazione della Riviera Nord per via del Giro il problema fondamentalmente non esiste si tratterà solamente di fargli modificare gli aspetti di mobilità di quel tratto lì il progetto rientra in un piano di riqualificazione delle riviere dal valore di quasi 2 milioni di euro che derivano dal piano nazionale di ripresa e resilienza c'è già un'idea di com'è quel tratto di Riviera possa essere riqualificato? ma quello che a noi interessa è sicuramente l'aspetto della mobilità che quindi deve rimanere così com'è poi è chiaro che valuteremo ipotesi di modifica di riqualificazione dei marciapiedi del diciamo del redurbano però fondamentalmente l'aspetto che importa più di tutto è l'aspetto legato alla mobilità poi è chiaro che i tecnici quando operano e lavorano gli architetti gli ingegneri magari mettono anche dell'inventiva loro dopo un mezzo secolo di abbandono il villino Cimarosa di Avezzano sarà riqualificato la fondazione Carispac ha acquisito il bene che peraltro è sottoposto a vincolo di tutela dal ministero della cultura e ora procederà ai lavori di ristrutturazione nel comune di Avezzano la fondazione Carispac hanno presentato in conferenza stampa l'intervento di ristrutturazione del villino Cimarosa acquisito dalla fondazione a seguito di una procedura pubblica di alienazione del bene conclusa di recente un'operazione che ha sollevato qualche malumore in città ma il presidente della fondazione Domenico Taglieri ha precisato che l'idea dell'acquisizione nasce da una serie di motivi e che il bene resterà comunque dei cittadini io tengo a ribadire che è un fatto importantissimo nel momento in cui intorno a noi si parla di incidenti si parla di guerra nonostante tutto la fondazione mantiene alto l'impegno e il livello di partecipazione alla cosa pubblica anche perché qui se stiamo parlando di un villino che è di proprietà del comune abbiamo visto che questo villino fino a oggi non ha avuto interventi e se lo lasciamo così nel tempo sicuramente i costi incominciano ad essere di gran lunga superiore poi c'è anche un altro aspetto la velocità con la quale noi facciamo le cose la fondazione è un ente privato e quindi non ha tutti quei legami i lacciuoli che poi impediscono quante opere pubbliche sono in piedi e non vengono realizzate fino in poi qui invece ci troviamo di fronte ad una scelta ad una riqualificazione che sarà fatta della fondazione certo insieme alla città di Avezzano non veniamo qui per snaturare veniamo per mantenere la memoria storica si tratta detto il vice sindaco di Berardino di una operazione importantissima per la città di Avezzano un restauro conservativo che permetterà di riportarlo in vita per due scopi uno perché così la città il territorio possa usufruire e quindi godere di questo monumento che va a rappresentare insieme ad altri 3-4 edifici del comune la nostra brevissima storia secondo aspetto che è importante altrettanto importante forse più importante è quella che oggi abbiamo voluto rispettare chi a suo tempo ha avuto il coraggio la forza e la capacità di costruire un monumento è vero che rappresenta uno spaccato della memoria storica della nostra pur breve storia territoriale andiamo a Chieti adesso è stata restaurata la colonnetta di Chietiscalo il monumento di epoca romana i lavori sono stati a spese della famiglia di Chietiscale la colonnetta di Chietiscalo ringiovanita di quasi 2000 anni si tratta del cippo miliare di epoca romana risale al 48-49 d.C. periodo in cui l'imperatore Claudio dispose la realizzazione di alcune infrastrutture verso l'Adriatico i lavori diedero ulteriore impulso alla romanizzazione di Teate oggi la colonnetta si presenta nuovamente a Chietini completamente restaurata è un progetto di cui parlavamo da mesi è un restauro che aspettavamo da tanto tempo grazie al mecenatismo del dottor De Cesare finalmente riusciamo ad avere quest'opera per fruimento di tutta la cittadinanza e in particolare dei cittadini di Chietiscalo i lavori sono stati totalmente a spese della famiglia De Cesare che con Paolo esprime il vice sindaco è l'ultimo regalo alla città da parte di mio padre scomparso un mese fa ha detto il titolare dell'impresa specializzata in restauri è l'ultimo regalo che in ordine di tempo mio papà è venuto o meno poco più di un mese fa che mio papà fa la città di Chieti per la quale si è tanto speso noi con grande piacere abbiamo progettato e realizzato il restauro di questo importante monumento simbolo dell'intera città e con grande piacere oggi siamo qui ringraziando l'amministrazione comunale per essere il sindaco Diego Ferrara che ci ha dato questa opportunità e sono certo che tanti miei colleghi seguiranno questo esempio e interverranno per riqualificare tanti monumenti stupendi che la città di Chieti vanta e che costituiscono lustro e pregio della nostra città ieri pomeriggio a Città Sant'Angelo si è svolto un incontro pubblico per parlare dei vantaggi della realizzazione di un biodigestore in località Piano di Sacco un impianto che darebbe impulso allo sviluppo della cosiddetta economia circolare sta facendo discutere in questi giorni l'ipotesi di realizzazione di un ecovalorizzatore nel comune di Città Sant'Angelo in località Piano di Sacco è stato questo l'argomento dell'incontro pubblico organizzato ieri al centro Ibisco dal comune stesso aperto ad amministratori ambientalisti cittadini che si sono ritrovati per capire quali possono essere i vantaggi della costruzione di questo biodigestore una proposta partita da due aziende aderenti a Snam un project financing dell'importo di 30 milioni di euro la metà dei quali a carico del privato proponente l'altra metà facente capo ad Ambiente S.p.a la società che svolge servizi di gestione dei rifiuti presso i comuni soci tra cui Pescara oltre Città Sant'Angelo e altri 5 delle pescarese come spiegato anche dall'amministratore di Ambiente Massimo Papa l'impianto consente di lavorare una cospicua frazione di organico ricavando nel compost biologico chiamato sempre più a sostituire concimi chimici e biometano andando a soddisfare la sempre più crescente richiesta di fabbisogno energetico anche alla luce degli sviluppi del conflitto russo-ucraino un tassello fondamentale che si inserisce nello sviluppo dell'economia circolare che ha dei paletti nei prossimi 15 anni il nostro paese dovrà ridurre al 10% lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e il target di riciclo dovrà toccare il 65% ora il 45% la proposta iniziale di S.nama peraltro è andata incontro a osservazioni redatte da Comune di Pescara e Ambiente e che sono state approvate a maggioranza dall'Assemblea dei Soci ora il dibattito resta aperto da cosa dipende diciamo la felicità di questo impianto dipende prima di tutto dalla nostra competenza e capacità tecnica nel costruirlo e poi dal fatto che la popolazione tutta capisca che è un grande passo in avanti verso la soluzione di problemi che noi abbiamo da sempre affrontato in maniera non sempre corretta sia ecologicamente che economicamente questo progetto diventa opportunamente emendato cambiato in alcune parti modificato e integrato poi diventa sostanzialmente la base per fare un bando di gara europeo in cui il proponente ovviamente ha un diritto di prelazione ma tutti gli altri che sono interessati costruttori realizzatori costruttori realizzatori e gestori sono assolutamente invitati a dare il meglio di loro stessi per delle offerte convenienti sia dal punto di vista qualitativo che da un punto di vista economico chi parla di una decisione già presa non conosce bene l'iter amministrativo le decisioni si prendono soprattutto quando si parla di impiantistica di rifiuti all'interno del via della valutazione impatto ambientale in regione è l'unico organo deputato nella quale un'amministrazione o un comitato può portare delle osservazioni e quindi può cercare di bloccare un qualsiasi iter chi parla di decisioni già prese in una semplice assemblea di sindaci che demandano ad ambiente la possibilità di ricevere una proposta progettuale a cui seguirà invece un progetto definitivo sinceramente fa semplice demagogia e non parla chiaro ai cittadini decine di ex calciatori hanno calcato i campi di padel al porto turistico di Pescara ieri in un evento che ha tratto molto pubblico tanti gli spettatori ovviamente a caccia di autografi e selfie Andrea Costantini tanto pubblico presente ieri negli impianti di padelmania a Pescara nei pressi del porto turistico nel centro sportivo si sono ritrovati tanti ex calciatori che tra un sorriso e l'altro si sono dati battaglia nei campi di padel immancabile la caccia al selfie da parte di quei fortunati che sono entrati nella struttura o che sono riusciti ad avvicinare alcuni idoli al momento dell'ingresso tutti ospiti dell'ex azzurro ed ex cittini dell'Under 21 Gigi Di Biagio e del presidente del Pescara Daniele Sebastiani e presenti per una nobile causa il ricavato dei biglietti è stato devoluto in beneficenza all'Agbe da Francesco Totti a Daniele De Rossi da Luca Toni a Dario Marcolin da Cristiano Doni a Massimo Paganin Cristian Panucci Roberto Baronio Massimo Maccherone Roberto D'Aversa Luca Liverani Marco Parolo Alessandro Matri Stefano Fiore Stefano Mauri Vincent Candelà Mauro Esposito Stefano Torrisi il tecnico del Pescara Luciano Zauri e tanti altri non ha mancato l'appuntamento nonostante gli impegni mattutini anche il CT azzurro Roberto Mancini presente ma senza partecipare Eusebio Di Francesco che però la prende con filosofia purtroppo i miei guai fisici la vecchiaia mi impone il fermo come si suol dire sono stato invitato anche perché sono molto amico sia del presidente di Daniele che di Gigi hanno fatto veramente un bellissimo evento con grande partecipazione anche dando facendo beneficenza per quello è un grosso piacere essere qui partecipare anche non giocando ma come se la cava con il padel Eusebio Di Francesco mi diverto mi piace però riesco a fare poche partite durante la settimana perché le ginocchia un po' le anche un po' tutto dai quello che abbiamo dato prima nel calcio non ci permette di poter giocare tantissimo Il torneo è stato vinto dalla coppia composta da Roberto Barogno e Alessandro Budel i quali hanno battuto in finale Alessandro Matri e Stefano Fiore tra i tanti sorrisi anche un pensiero al campionato di Serie A che domani emetterà il verdetto più atteso lo Scudetto Milan favorito o no? Beh direi di sì ampiamente se l'è meritato perché è sempre rimasto attaccato al vertice della classifica è un paio d'anni sono tre anni ormai che sta lavorando nella maniera giusta adesso sta raccogliendo dei frutti è vero che l'Intra ha perso delle chance importanti di poter agganciare lo Scudetto però i campionati sono belli questi proprio perché i campionati sono belli per questo perché c'è la possibilità sempre fino in fondo di potersela giocare E tra i 53 calciatori convocati per lo stagio azzurro coordinato dal commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini ieri lo avete visto presente a Pescara c'è anche il giovane portiere del Pescara Alessandro Sorrentino una grande soddisfazione per il ragazzo ma anche per noi ha commentato il presidente Daniele Sebastiani gli sforzi che facciamo con il settore giovanile ci stanno dando grandi risultati intanto sul fronte cessione societaria tutto resta in stand by di questo argomento e della stagione appena conclusa ha parlato ai nostri microfoni il presidente onorario del Pescara Vincenzo Marinelli che bilancio troviamo di questa stagione del Pescara non è andata forse come molti volevano sicuramente no io ho un'esperienza da presidente sono retrocesso per fortuna siamo tornati subito in serie B perché secondo me è un purgatorio che non finisce mai hai bisogno di fare una squadra soprattutto adatta alla serie C è stato anche per me particolarmente perché purtroppo non l'ho vissuta vicino per problemi miei di salute quindi che però ti dico mi sento ancora un bugile suonato perché io ho il Pescara i colori bianco-azzurri e prima il Pescara e poi la Nazionale e tutto quindi io spero spero che si faccia qualcosa perché il calcio secondo me a questo livello non è che si trovano molte persone disposte a investire e io quando sento dire parole non adatto a una persona quindi mi riferisco al presidente Sebastiani da parte dei nifosi mi piangi il cuore perché ci fosse qualche altra situazione o qualche altra cosa allora pagare la colpa che non vuole scegliere ok però io mi sono trovato anche in quelle altre situazioni sono arrivati degli avventurieri e quindi il Pescara è fallito io dopo 29 anni possiamo dire che l'abbiamo tenuto sempre a un certo livello cosa accadrà secondo lei nelle prossime settimane Sebastiani cederà le quote o no? lavorando abbiamo lavorato anche con qualche club insieme però Pescara purtroppo la piazza è quella che è cioè qualche società che era disposta a prendere il Pescara è capitata un'altra squadra mi riferisco al Palermo che ha un'utenza molto superiore poi ci ha quantificato i debiti cioè nel Pescara è difficile anche stabilire perché oltre alla squadra al valore soprattutto anche dei ragazzi basta vedere che chi gioca con l'Under 17 e altri convocati nelle nazionali più ci sono gli immobili quindi quantificare è molto più difficile io spero che veramente qualcuno che ha voglia di fare qualcosa di buono ma c'è secondo lei c'è questo qualcuno c'è? c'è i contatti c'è perché lo so anche da vicino perché l'abbiamo fatto con qualche altro club molto quasi sicuro di poter prendere la società poi è venuto fuori il Palermo che c'è più spettatori io spero mi auguro che ci sia qualcuno però è capitato anche a me abbiamo fatto solo parole 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 nel momento in cui di concretizzare qualcosa di voler bene a Pescara secondo me non c'è più quella voglia quella che c'era prima quindi siamo quattro gatti che vogliamo bene e con noi e nel Girone F di Serie D ultimo turno della stagione regolare Pineto e Vastese hanno la possibilità di guadagnarsi gli spareggi promozione in basso il Castelnuovo avrà uno scontro delicatissimo ma anche poche chance di evitare il play out per mantenere la quarta serie ultima giornata della Girone F di Serie D con Verdetti ancora da scrivere e una griglia play off ancora da disegnare tra Stevere e Tolentino sono matematicamente dentro e poi cinque squadre che possono ancora aspirare all'appendice finale del torneo due sono Abruzzesi Pineto e Vastese i biancazzurri di Daniele Amaolo giocano un vero e proprio scontro diretto al Mariani Pavone contro la San Benedettesi a pari punti a quota 52 chi vince è certo di partecipare alla postseason sarà un incrocio determinante per le due formazioni che in 90 minuti non che si giochi in una stagione ma comunque possono regalarsi un piccolo sorriso Marchigiani senza Alboni in difesa e Angiulli appiedato dal giudice sportivo e con ogni probabilità anche senza Lulli in mezzo al campo visto che il centrocampista soffre ancora per un problema al polpaccio decisione finale che sarà presa soltanto a poche ore dal match che il Pineto affronterà invece senza gli squalificati Mesisca e Del Mastro ma gara da vincere ad ogni costo perché solo così avrebbe la certezza di un playoff che l'anno scorso vinse in finale a scapito del notaresco Anereto Olavastese sarà spettatrice più che interessata perché vincendo con i vibratiani anch'essa sarebbe sicura di un piazzamento postseason bisognerebbe vedere poi con quale posizionamento per individuare anche l'eventuale avversaria in semifinale se Pineto e San Benedettese pareggiano e Lavastese che a 50 punti facesse il blitz a Anereto con un arrivo a 3 a quota 53 Lavastese beneficerebbe della classifica avulsa favorevole e si piazzerebbe al quarto posto se invece una tra Pineto e San Benedettese dovesse portarsi a casa l'intera posta in paglio con una vittoria Lavastese arriverebbe quinta e avrebbe la semifinale contro la seconda ma l'obbligo dei tre punti rimane anche perché gli aragonesi hanno gli scontri diretti a favore anche con il Fiuggi vittoria 4-1 e sconfitta 2-1 i laziali di conseguenza devono regolare il Castelfidardo e sperare che Lavastese non ottenga identico risultato contro la penultima della classe piccolissima speranza anche per il Porto d'Ascoli a quota 49 ci vorrebbero mancati successi di Vastese e Fiuggi e Pineto Samba non deve finire con il segno X insomma davvero complicato soprattutto perché l'avversario che arriva il Fano non potrà permettersi di regalare punti anche perché la zona bassa vedrà il notalesco far visita all'Aurora Alto Casertano già retrocessa con l'opportunità di mettere in ghiaccio una salvezza sofferta ma facilitata dal successo contro la Re Canatese di settimana scorsa a proposito di Re Canatese il Chieti farà visita alla capolista promossa in Lega Pro e Nero Verdi manca un punto per festeggiare la matematica permanenza in Serie D impresa non impossibile visto che la formazione di Pagliari ha poco altro da chiedere al campionato la situazione più difficile c'era il Castelnuovo che è quasi certo di dover passare attraverso le forche caudine del play-out in più domani scontro diretto che più diretto non si può a Vasto Girardi che chiude col Fano il lotto spareggi permanenza quota 45 la squadra di Guido di Fabio ha poche possibilità di evitare l'appendice finale per rimanere in Serie D e ai suoi destini guarderanno anche nel campionato di eccellenza abruzzese difando che i Nero Verdi salvino la categoria per non procedere a dover decretare una retrocessione in più in promozione un orecchio sarà anche alla gara di Montegiorgio dove i padroni di casa a quota 46 come il notaresco ospitano il Tolentino per un impegno più complicato di quello che avranno i rosso-blu di Epifani 90 minuti dunque da vivere tutti di un fiato aspettando i verdetti per play-off e play-out stesso regolamento per primi e secondi in caso di parità al termine dei tempi regolamentari tempi supplementari persistendo la parità accederà alla fase successiva la società meglio classificata al termine del campionato stesso discorso anche per i play-out in caso di parità al termine dei tempi regolamentari due supplementari e persistendo parità accederanno al campionato d'eccellenza regionale le squadre peggiori classificate al termine del campionato e questo era il nostro ultimo servizio contributi che potete trovare sulla piattaforma youtube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social prossimo aggiornamento alle ore 19 grazie per la cortese attenzione buon proseguimento di giornata grazie per la visione grazie per la visione